Buona domenica a tutti quanti voi dal vostro Mauro Lodigiani e benvenuti ad una nuova puntata della mia rubrica intitolata Moto come un pesce. Come dico sempre tutte le volte, la mia rubrica è intitolata così per associazione di idee a quella sopropria spagnola su Canale 5. In questo fine settimana, dato che c'è la sosta del campionato sia di serie A e di serie B, approfittiamo a fare qualche puntata, ovviamente della mia rubrica intitolata Moto come un pesce. Ora vorrei cantare un altro brano di Federico. Giusto per fare la carellata zampaglionesca, nel senso che in questo fine settimana ci stiamo interessando delle canzoni di Tiro Mancini, ma il vero nome è Federico Zampaglione. Prima di passare alla musica, affettuosissimamente, mando un abbraccio a Mite, a Federico, a tutti quanti voi e a tutti quanti, a tutti quanti. Ora musica e vorrei cantare una canzone nuova di Federico Zampaglione. Il titolo è, ecco, oggi faccio un'eccezione. Il titolo è Non il caso mai. Musica adesso e buon divertimento. Momento di pazienza. Pubblicità. C'è tutto quello che non mi aspettavo. Se è quello che aspettavo, io da tempo. Riempi la distanza da chi non sarò mai. Dalle distratte e tutti i miei vorrei. E spero solo che non finirà. Sei la destinazione che mi corre incontro. Chissà, chissà, se noi in caso mai ci riconosceremo anche più in là chissà, chissà come sarà trovarsi non è mai per caso per quest'amore non ti farò andare via. Ripensa quando ero rimasto solo per un motivo che io non ho mai capito. Sentivo di essere inciampato nel destino poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Ah! Ad occhi chiusi andiamo verso il mondo. vivendoci la gioia del momento chissà, chissà, chissà noi casomai ci riconosceremo anche più in là chissà, chissà come sarà. Trovarsi non è mai per caso per quest'amore non ti farò andare via. Io credo che il segreto è respirare mentre tutto va come deve andare. Troppe parole non servono a niente ma l'esplosione nel cuore cura la mente perché è un abbraccio è come guardarsi dentro perché pelle su pelle io mi perdo e andare via da chi d'oggi vuol dire sapparsi guardare i nostri pezzi sparsi tra i passi chissà 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 se noi casomai ci riconosceremo anche più in là chissà chissà come sarà trovarsi non è mai per caso per quest'amore non ti farò andare via adesso amore non ti farò andare via alla prossima